Rischia di sfociare e non avere propria emergenza sociale la vicenda degli operatori ecologici di Modica di nuovo senza stipendio da quattro mesi. Le rispettive famiglie stentano ad arrivare a fine mese qualche dipendente ha pure difficoltà a raggiungere il posto di lavoro quotidianamente non potendo addirittura sostenere le spese per l'auto quale in primis il carburante. Si spera quindi nell'esito positivo della convocazione delle parti in prefettura Ragusa per domattina dopo il rinvio della scorsa settimana per trovare una soluzione volta a sbloccare l'erogazione di almeno un paio di mensilità per concedere respiro ai lavoratori. In mancanza di novità concrete dovrebbe attuarsi una giornata di sciopero per giorno 17. Il nodo resta sempre quello dei mancati pagamenti appunto nonostante il comune di Modica sostenga di aver liquidato alla ditta Puccia le somme dovute per il pagamento degli stipendi. Da parte sua invece l'azienda modicana ribadisce il contrario. In mezzo ci stanno i sindacati che tentano di trovare la quadratura del cerchio di una situazione che resta complessa. L'unico dato certo è al momento che gli operatori ecologici stanno continuando a lavorare come sempre seppure tra le migre difficoltà derivanti dal fatto di non ricevere il meritato e evitare stipendio alla fine mese ormai da ben 120 giorni.